un saluto da Marco Conte ai carissimi Lidia Coci e Rudy Novi e soprattutto un saluto e un abbraccio a tutti gli amici di Intervista con l'artista. Ciao! Un caro saluto agli amici Lidia Coci e Rudy Novi ed una buona partenza per la nuova stagione del programma Intervista con l'artista. In bocca al lupo ragazzi! Kiss! Ciao a tutti da Max Rasa, un caro saluto a Lidia Coci e a Rudy Novi della trasmissione Intervista con l'artista. Buona musica a tutti! Ciao! Tanti cari saluti a Lidia Coci e a Rudy Novi per il programma Intervista con l'artista. Ciao a tutti, sono Alessandro Palazzo, un saluto a tutti voi che seguite l'Intervista con l'artista, ma soprattutto un forte abbraccio alla coppia perfetta. Sto parlando naturalmente di Lidia e Rudy. Ciao! Ciao!